ragazzi video velocissimo giusto per dirvi che oggi è martedì e oltre ad arrivarmi il topolino che ho appena finito di leggere e di registrare il video mi è arrivato anche questo bel pacchettino con la collezione completa dei topodollari perché io ho fatto diciamo l'upgrade dell'abbonamento di 3 mesi infatti 12 numeri in regalo appunto mi è arrivato il set completo delle monete così che io non debba comprare tutte le varie testate collaterali che è una politica che ormai veramente non sopporto più quindi vi faccio vedere al volo come sono le monete tutte le monete di topolinea con i disegni fatti da Marco Rota e sono sulla falsariga delle monete di Paperopoli sono praticamente identiche vediamo ve le faccio vedere vi faccio vedere anche quelle di Paperopoli già che ci sono se riesco a recuperarle arrampicandomi nei meandri della mia libreria eccoci qua eccoci qui ecco qui anche le monete appunto di Paperopoli che vediamo appunto essere praticamente identiche forse sono un poco più bronzate sono un po' o perché sono invecchiate guardate hanno una tonalità diversa eppure io mi ricordo che forse erano così all'inizio forse sono invecchiate e sono diventate così non lo so adesso non ricordo bene però guardate sono praticamente identiche qui abbiamo appunto con quelle di Paperopoli Zio Paperone e ci sta è molto contestualizzato invece topolino immerso nelle monete non c'entra nulla per me però ecco come sono fatte anche qui vediamo che il retro 10 esclusivi paper dollari 10 esclusivi topo dollari Marco Rota Marco Rota tutte e due quindi praticamente il formato è lo stesso e io quindi ho voluto prendere le monete perché comunque sono più di pregio rispetto alle banconote ho fatto tutte le banconote che facevo non prendevo le monete però guardate la tonalità sembra non lo so i colori d'oro delle armature dei cavalieri d'oro dei cavalieri dello Zorieco abbiamo una tonalità più bronzea e una tonalità più appunto oro comunque queste erano le monete ragazzi video brevissimo che terminerà subitissimo giusto per farvi vedere e per incitarvi a non continuare a contribuire ad acquistare queste innumerevoli testate ma appunto se danno l'opportunità di effettuare l'abbonamento a topolino fate così perché a meno vabbè alla fine sono scelte libero mercato potete fare quello che volete però l'importante è che diano una scelta a chi non vuole comprare appunto tutte quelle testate collaterali così come ho fatto io e sono contento così alla fine perché tre mesi in più l'abbonamento ci sta per avere questo bellissimo regalo ragazzi con questo è tutto ci vediamo domani con il video del topolino ciao ciao